Invito tutte le pubbliche amministrazioni a iscriversi a questo contest PAOK insieme per creare valore pubblico. Al sito lo voglio citare www.pac.formez.it. È un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzato da Formez, che mira a premiare le amministrazioni virtuose ed è volto a selezionare, a sostenere, a valorizzare i progetti di innovazione degli enti centrali e territoriali finalizzati a raggiungere risultati tangibili e misurabili. Nasce anche per stimolare e premiare le pubbliche amministrazioni sui progetti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi, a misurare le performance e i risultati tangibili per cittadini e imprese e a diffondere la consapevolezza circa contenuti e modalità di realizzazione delle buone pratiche che conducono la pubblica amministrazione verso il futuro. Io stesso avrò il piacere di premiare i progetti migliori e saranno individuate alcune amministrazioni che entreranno a far parte di un gruppo di lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica per definire un set di indicatori di performance organizzativa.